Nancy smettila con sto cellulare sul mio profilo eh, metti sempre mi piace a tutte le mie foto ti scrivo tutti i commenti cattivi, ti scopo sei la mia haters ragazze, oddio c'ho tutto il sole in faccia ciao caserta, arriviamo, oggi giorno dell'evento siamo felicissime, emozionatissime di vedervi, non vediamo l'ora comunque sono tutta sparaflesciata, però invece c'è un rossetto molto carino che aspettate, non riesco a farvelo vedere, non è così fuggsia, è molto molto carino vabbè, eccolo qua, è molto bello, è un prugna fuggsia Nancy, tu pure tutta prugna, come stai bene? un rossetto però nude nude, ovviamente, comunque stai bene con questi capelli tutti belli lucidi mi piace come stai stiamo arrivando, adesso vi faccio vedere tutto un pochino, un pochino tutto quello che succede oggi per le persone che non possono venire comunque sono troppo felice di incontrarvi e speriamo che questi eventi si faranno sempre di più in tutta Italia tu vieni, mi accompagni? sempre brava sa pure Max che ti ha insistito perché voleva salutare insisto sempre era proprio contento di apparire nel video ciao 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 grazie alla bioporfumeria, alla regia del bio per dirvi grazie, grazie per chi mi seguite, per tutto il supporto che mi date veramente è una cosa fantastica per me, veramente fantastica e mi date la possibilità di condividere le mie passioni, tutto quello che mi piace il mondo del bio, no? siamo una fantastica community del bio la cosa che posso suggerire a chiunque di voi che vuole iniziare un percorso nel web ma sia come canale, youtube, ma anche nella vita secondo me la guerra tra donne, di dire queste cose cerchiamo invece di fare in modo che il web, internet sia qualcosa di positivo perché è positivo e guardate dove mi ha portato e dove ci ha portato a creare un mondo nuovo a creare delle cose nuove che fino a anni fa, in vostra situazione, non esistevano le bioporfumerie, le ragazze che si sono potute affermare si sono potute trovare fanno un lavoro che gli piace prima tutto ciò non esisteva il commercio mi piace riprodurre in casa ovviamente se un prodotto, ecco, costa tanti soldi bisogna sempre far distinzione alcune volte, guarda, ci sono anche prodotti che costano tanto ma non è sinonimo di qualità anzi anche tu, anche voi siete felici grazie ciao eccoci qua grazie perciò sei seguita sei vera, sei umile bravo non è vero voglio fare questo video non premareci se siete iscritti non mi piace come mettere il cellulare ho aspettato il cellulare ho fatto il video della macchina c'è quei video più belli quelli spontanee grazie ragazze siete contenti di stare qua? ciao vi salutiamo tutti grazie tanti saluti dalla reggia del bio è un evento bellissimo è stato grazie a Carmela le ragazze veramente hanno fatto un'organizzazione fantastica le persone che sono venute meravigliose abbiamo parlato di tante cose interessanti volete dire qualcosa ragazzi? no siamo distrutte 3,2,1 si gira grazie a tutti alle vite che ci hanno aiutato e alla presenza loro che è stata fondamentale per questo festeggiamento ma soprattutto grazie alle persone che sono venute che è la cosa più importante grazie ciao vi ringraziamo con tutto il cuore vi mandiamo un bacio grandissimo ciao è l'evento finito siamo stravolte siamo stravolte però è andato tutto bene è stato veramente fantastico ringrazio tantissimo ragazze della legge del bio mando un bacio grande ma soprattutto ringrazio voi siete venuti veramente tantissimo abbiamo fatto due gruppi centinaia di persone in questa sala che era anche bella grande tutti poi non sono riuscita a entrare su un'infinita bio però insomma spero di essere riuscita insomma a darvi soddisfazione a tutti quanti ci sono stati tanti tanti regalini insomma è stata proprio una bella giornata abbiamo parlato di bio di tante cose persone bellissime super interessate intelligenti ho detto io che le ragazze che mi seguono anche signore grandi veramente sono giornate bellissime quindi io vi ringrazio tantissimo adesso siamo qua a mangiare il sushi questo ristorante che si chiama Buga dove c'è una ragazza che mi ha c'è una ragazza che lavora che mi ha riconosciuto e quindi siamo qua Nesi ma non mi ha di fare troppo Nesi è fame che c'ho amore aiuto c'ho tanta fame adesso vi faccio vedere cosa mangiamo mi ha detto male dammi la mamma ciao 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 sei fiera della tua fidanzata sono brava brava ma anche tu sei tuoi fan però sono poche perché tu sei attivati quello dicono tutti sei troppo attivati non basta ma stene via yeah sushi è arrivato che buono maxi ti ha mangiato un appetito oh si è tolto che brutto quando succede così è troppo brutto sì sì buono сон Another little un pane a un un Miammi ommin E' un pebbagura Ah, molto Ciao Grazie a tutti.